Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video volevamo tuffarci nel mondo dell'acqua. Allora, innanzitutto sono con la mia sorellina Samantha. In questo video vi faremo vedere come ci laviamo e cosa facciamo e giochiamo. Benissimo, iniziamo! Allora, ho riempito l'acqua col sapone, con molto sapone per lavarle meglio. Ho preso il loro biberon, così dopo vediamo cosa fanno. Poi ho preso le due paperelle che vi ho fatto vedere nello scorso video. Bene, allora, le facciamo tuffare. Benissimo, vedete? Ok, prendiamo prima Samantha, su biberon. Bene, vediamo. Bene, è uscita tutta l'acqua. Benissimo, adesso proviamo con Numi, che è la nostra fruta da vista. Lei spuzza acqua dalla bocca. E ecco. Come possiamo vedere il vomita? Invece lei? Piange. Guardate. Vedete? Non si vede. Pregi, pregi, pregi. Pregi. Ok, allora, adesso le facciamo un po' giocare con le paperelle. E' vero, adesso le facciamo fare dei tuffi fortissimi. Allora, chi schizza di più vince? Allora, il mio tuffo sarà il tuffo di testa. Allora, vai. Ecco, ho schizzato pochissimo. Tu come me? Nessuno ha schizzato. Non paro da qua. Vai, vai. Allora, tu? Eci, ti ho fatto tutto. Vai. Lascia insieme. E adesso usciremo a fra poco. Adesso le facciamo asciugare. Mettile bene. Tieni, tieni, tieni. Asciugiamole, che ne ho fatto un bel bagnetto. Ecco perché. Adesso lei si vestirà. Sì. Ok, dopo le vestiamo, prima le asciughiamo tutte e due. Bene, adesso asciughiamo anche il suo corpicino. Adesso le attacchiamo alla testa. Le facciamo un po' asciugare. E intanto... E intanto scarichiamo tutto il tutto. A parte di gioco. Per il far primo, ovviamente, si sta che il tappo, no? Ok, prendiamo anche queste. E sbottiamole. Non si vede male. Ok. Andiamo. Ok. Ok, le prendiamo. Allora, innanzitutto mi asciugano le mie mani. Asciughiamo i liver. Pazzini. Ok. Adesso mettiamole qua. E le vestiamo. Pazzini. Ok. Adesso mettiamole qua. con questo. E poi questi pantaloni con la felpa legata. legata. Benissimo. Mettiamo le sue scarpe. Eccola. 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 È pronta. Tutta profumata. Bene. che sta aspettando. Che sta aspettando sua sorella. Che sta aspettando sua sorella. Ok. Adesso vestiamo pure Noemi. Allora, gli mettiamo il suo solito vestitino body con la giacchettina. Mettiamo le sue scarpe. Sté ancora scurtanele. Ok. Ecco. E sono pronte. spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spollizzate tutto il mondo e noi ci vediamo al prossimo video ciao